Frullato, addonato, 2 euro. Bro, poi per favore scuotere quel merda di esta è? Eh, certo. Perché? Visto? Fa rumore di... di vuoto. Ti sembra rumore di pieno questo? Questo è rumore di pieno, perché c'è un sacco d'acqua dentro. Visto? Però questo è vuoto. Finisci lo coglione. Ragazzi, adesso lo straccerei e farei così, per farvi vedere che non c'è niente, ma non voglio farlo perché vi vergognereste tantissimo. Cioè, poi ci sarebbe solamente... guarda. Visto? Non sto succhiando niente, perché non c'è niente. Visto? Grazie, Frullato. Frullato, addonato, 3 euro. Lo sapevo menti anche sul livello della pienezza di estate. Come anche? Eh, vaffanculo, coglione. Non sto... non sto mentendo. Io sonrisamente Schmerzer che comprovate. Grazie a tutti.